Fin da principio Dio manifesta il suo amore per l'uomo chiamandolo col dono della paternità e come collaboratore della sua stessa azione creatrice. Se sembrano parole artefatte, ma se noi ci riflettiamo sopra è una cosa grandiosa. Dio che dà all'uomo la potestà di continuare la specie umana su questa terra e di abbellire il quanto più possibile la creazione. Dio lo fa un piccolo Deo, un piccolo Dio, bello, bello, e l'uomo purtroppo pensa altrove. Nel matrimonio si esplica la volontà di vivere insieme nei doveri quotidiani, nelle fatiche, nella procreazione responsabile, nell'educazione cristiana della prola. La famiglia di Nazareth è una vera scuola nell'esperienza della povertà, della gioia e del dolore. La Sagra Famiglia ci fa scoprire il senso intimo della meditazione, del silenzio, della sofferenza e dei problemi di sempre. Salute, stanchezza, mancanza di lavoro, incomprensione di parte della gente. Sembrano tutte tematiche moderne, ma sono le tematiche di sempre, anche della casa di Nazareth. La famiglia è la piccola chiesa, che pur limitata dalle mure della piccola casa, è il luogo in cui si attuano gli eventi ricchi di mistero, il concepimento di una nuova vita, la nascita di un bambino, la malattia, la morte. Cioè, tutti i grandi misteri della vita dell'uomo vengono vissuti nella casa, nella chiesa domestica. Nell'ambito della famiglia si vivono in forma profetica eventi particolari. Coabitazione con gli anziani, accettazione di una gravidanza non desiderata, dedizione ai bambini subnormali, adozione e ospitalità. La famiglia realizza la sua testimonianza rifiutando le tentazioni di consumistiche, l'assenteismo sul lavoro, la mentalità permissivistica inculcata dalla tv, dalla radio, dalle riviste. Certo non ci sarebbe neppure bisogno che questi mezzi di comunicazione si preoccupassero di insinuare ancora la discesa verso il disimpegno, perché già il modo di pensare e di agire dell'uomo è portato verso il basso. E invece sarebbe opportuno valorizzare la capacità di questi mezzi di comunicazione per creare un mondo migliore, un mondo di serenità, gioia, amore. Grazie a tutti.